Dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 saranno i documenti relativi all'ultimo periodo dell'ex amministrazione Russello e quasi tutto invece dell'ex amministrazione Manganella ad essere controllati dai commissari di liquidazione. I tre commissari dovranno controllare sei anni di attività e documenti e certamente impiegheranno tempo e fatiche per avere una reale ricognizione delle cose. Non si ha una data certa di quando si avrà una prima ricognizione degli atti. L'organo collegiale dovrà innanzitutto consultare i vari uffici e acquisire la documentazione per pronunciarsi. Il loro incarico si concluderà non appena saranno estinti tutti i debiti del comune e comunque non potrà durare oltre i cinque anni. L'incarico durerà fino a quando saranno estinti tutti i debiti del comune. Come limite non può durare più di cinque anni quindi in ogni caso noi cercheremo di fare di tutto per riuscire a completare, a concludere il nostro incarico in tempi brevi. I commissari straordinari hanno il compito entro dieci giorni dal loro insediamento e cioè entro domenica 26 febbraio di dare notizia dell'avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31 dicembre 2015. I creditori avranno poi tempo due mesi per presentare domanda trascorsi i quali perderanno il diritto di vantare crediti dal comune. Le prime cose da fare, la prima in assoluto, sarà quella di pubblicare per la cittadinanza un avviso sulla base del quale tutti i potenziali creditori del comune saranno chiamati a presentare un'istanza, cosa che deve avvenire tassativamente entro 60 giorni. Anzi, io approfitto già di questa occasione perché è il primo passo ed è il più importante perché i cittadini, tutti i creditori, le imprese, chiunque ritiene di vantare un credito verso il comune di Favara deve presentare un'istanza che sarà ovviamente resa disponibile e attenzione perché chi non presenterà quell'istanza non avrà più titolo per richiedere quanto ritenuto di sua aspettanza nei confronti del comune. Il segretario generale Alessandra Melania Laspina, il funzionario comunale Giuseppe Gaeta e il dottore commercialista Paolo Ancona dovranno quindi gestire l'indebitamento pregresso e avranno pieni poteri per l'adozione di tutti i provvedimenti che riterranno necessari per l'estinzione dei debiti del comune di Favara. Acquisiranno e gestiranno i mezzi finanziari disponibili ai fini di risanare i conti del comune. Se lo riterranno necessario e opportuno potranno ad esempio vendere anche gli immobili di proprietà comunale. Dovranno anche accertare se nel tempo ci sia stato un cattivo modo di gestire i soldi comunali che abbia causato danni economici allo stesso ente locale o all'erario. Nel caso l'organo straordinario di liquidazione dovesse riscontrare ciò provvederà a fare denuncia alla procura regionale della Corte dei Conti e a segnalare tutto alla Prefettura e al Ministero dell'Interno. Noi abbiamo anche chiaramente come obblighi già dal verbale di insediamento si procederà alla trasmissione a tutta una serie di organi esterni, saranno la Corte dei Conti, sarà oltre che naturalmente la Prefettura, il Ministero, sono tutti i nostri organi di riferimento, ma naturalmente l'esistenza di un danno erariale riferito a situazioni pregresse verrà sicuramente segnalato alla Corte dei Conti e verranno rilevate e poi fatti gli accertamenti dagli organi competenti per eventuali responsabilità che dovessero emergere a riguardo.